a natale siamo tutti davvero più buoni già questo recita un mantra ogni anno ma lo siamo davvero e se lo fossimo realmente la festa non potrebbe durare un anno intero certo è una provocazione anche un po scontata ma soffermiamoci per un minuto a pensarci a natale siamo più buoni perché vogliamo perché dobbiamo esserlo una nota canzone recita alcune riflessioni anche a natale passeggiando per le città dobbati a festa con le vetrine lucide invitanti passando davanti a un senza tetto che ci tende la mano ci fermiamo o voltiamo lo sguardo dall'altra parte nei giorni che precedono la festa nei centri commerciali quanto spesso sbuffiamo se qualcuno ci passa davanti nella fila la cassa o per chi crede in quanti vanno ammessa solo in questa occasione in coda nel traffico quanto sbraichiamo se ci tagliano la strada se siamo incolonnati nelle passeggiate per il corso delle varie città quanto ci infastidisce camminare tra la folla o nei concerti farsi largo tra la calca per avere il posto migliore persino nelle recite di figli e nipoti in ultimo un classico sembra che il natale più che rasserenarci ci faccia saltare non dirà due nervi forse perché dimentichiamo il vero significato della festa che per chi crede non dovrebbe essere solo abbuffate regali desiderati o disdegnati ma il natale per i cristiani dovrebbe essere la rinascita nel cuore di ognuno di noi di gesù nostro signore il vero festeggiato dovrebbe essere lui non noi prendiamoci un po di tempo nel silenzio e nella riflessione i regali più belli sono di sicuro quelle preghiere spontanee un grazie rivolto al cielo un pensiero per chi non è più con noi che rende il natale sì malinconico anche se a pensarci bene proprio chi ci ha lasciato a un posto di rilievo in prima fila vicino al nascituro a natale siamo tutti più buoni e va bene anche se per un giorno cerchiamo di esserlo davvero con il nostro vicino di casa con gli amici i nostri cari persino con chi non conosciamo almeno per un giorno mettiamo da parte i rancori i giudizi e i pregiudizi certo non siamo ciao a tutti stavo giusto leggendo le letterine guai a fare in questo servizio un sermone e solo una piccola microscopica riflessione affinché ci induca compreso chi legge ad esserlo un po più buoni per davvero non solo a natale a non dimentichiamo ad esserlo anche con noi stessi buon natale a tutti gli abruzzesi